terzo giorno 55 chilometri 2008 e pussa di dislivello sono stanchissimo preoccupatissimo perché oggi non so se la finisco ms ps siamo di nuovo belli e liquidi ma la domanda è chi ce l'ho fatto fare piano dai anto butta tutto ma o le allucinazioni a sfondo mistico o c'è un prete vedi anche tu guarda che bello dove ti porto dove ti porto verso col serena dai e che sciogno vai a pausa è verticale no spingo che toro ce la fa 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 incredibile scappiamo top questo è il potere della wild no vabbè incredibile col serena boom e comunque in cima arrivi sempre prima te grande grande e giù dal col serena occhio a neve piano che è impestata dove vai? oh piano oh piano ahahah ahahah buttati in un bel canalone guarda come vado giù bene oh tanta roba come fare sci di fondo ahahah che bello dai dai Max vai per me il sentiero vai vai per me il sentiero vai che bella che bello eh luffa Oh ma no, questo è il posto brutto Max Vai vai bello sentiero roccioso alpino single track figo dai dai oh 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 guarda che linea che ti ho acquittato no beh questo non è al mio livello oh 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 dai occhio di rosso oh 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 e si riparte dopo franzo oh che frescura lungo il fiume ultima ps teng eccoci gli volatelli per diabetici non qua neanche il turbo ci salva finca macchi ma come fa? oh 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 mi rimaltavo indietro non so se ce la faccio e non ho neanche voglia detto proprio sinceramente puttana nooo pure vaffanculo porco due basta fatemi arrivare sono tre giorni che siamo così porca troia questo bisogna dimenticarsi ciao dopo la seconda salita già oh già ma io di batteria ne ho se mi fa andare tutto così siamo a cavallo metaforicamente parlando ciao boom finito ora si scende e basta fino ad Aosta guarda guarda la Val d'Aosta pietraccia brava 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 ha 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 che ridere che ridere ma guarda te che single track dei sciogni che hanno per andare ad Aosta davvero dai Max famose sto pistino pompalo minchia è finita Attendiamo 20-24 E allora un grande applauso a voi stessi, grandi protagonisti di questa terza edizione di Oralound di NTV Bosch Grazie davvero a tutti per questi tre giorni spettacolari